Cari colleghi, intervengo per la seconda volta in quest'Aula da quando sono stato eletto Presidente del Copasir nel giugno dell'anno scorso. L'ho fatto solo durante le comunicazioni del Governo sulla guerra in Ucraina per dar conto proprio degli allarmi che il Comitato aveva espresso nelle sue relazioni sulla postura aggressiva della Russia in Ucraina e più in generale in Europa e nel Mediterraneo allargato, nei Balcani, in Libia e nel Sahel in Africa. Una minaccia cresciuta nel tempo, tesa ad accerchiare l'Europa, anche attraverso il controllo dell'energia e delle materie prime, pronta a utilizzare ogni mezzo in una moderna, terribile e pervasiva guerra ibrida. Avevamo evidenziato il dispiegamento militare russo intorno all'Ucraina, così come le conseguenze del referendum costituzionale in Bielorussia che avrebbe cancellato la neutralità di quel Paese, permettendo quindi alle truppe russe di agire anche con dispositivo nucleare dalla Bielorussia. Avevamo evidenziato nel tempo, anche nelle precedenti relazioni, l'azione di spionaggio e di reclutamento russo nel nostro Paese, la pervasività della penetrazione russa in Europa, tesa a condizionare le istituzioni democratiche, l'azione aggressiva realizzata nei nuovi domini bellici, nello spazio e nel cyber, l'uso sistematico dei mercenari della Wagner, non soltanto in Africa. Avevamo scritto, tra l'altro, cito testualmente tra virgolette, un escalation militare in Ucraina potrebbe comportare un ulteriore peggioramento della situazione, che risulterebbe rovinosa anche e soprattutto per l'Italia, che deve a Mosca oltre il 40% dell'importazione di gas, chiuso virgolette. L'avevamo scritto. Peraltro, proprio sulla sicurezza energetica, il Copa si è realizzato una specifica relazione al Parlamento il 9 gennaio di quest'anno, al termine di oltre sei mesi di indagine conoscitiva. In quella relazione abbiamo evidenziato la necessità di affrancarci dalla dipendenza estera e tanto più dai Paesi, come la Russia, che utilizzano l'energia quale fattore di potenza. In quella relazione indicavamo alcune soluzioni, che sono poi quelle che ora il Governo si appresta a varare incalzato dall'emergenza. Già allora parlavamo della necessità di raddoppiare la produzione nazionale di gas, di diversificare le fonti, di utilizzare il potere sostitutivo dello Stato per gli impianti solari e eolici che erano bloccati. Già allora parlavamo del nucleare di quarta generazione e dell'ipotesi di fusione nucleare, che il Presidente Draghi ha citato pochi giorni fa alla Camera. Erano tutte indicazioni già contenute nella nostra relazione sulla sicurezza energetica. Così come in quella relazione abbiamo indicato con chiarezza l'assoluta necessità di realizzare, sono le parole conclusive della relazione, un piano nazionale di sicurezza energetica al fine di raggiungere un'autonomia strategica, tecnologica e produttiva nel quadro europeo-occidentale di cui finalmente si parla a fronte dell'emergenza. Cari colleghi, oggi finalmente discutiamo, dico finalmente, in modo compiuto di sicurezza nazionale sulla base della relazione annuale del Copasir del 14 febbraio. È una novità importante. Cari colleghi, l'abbiamo detto in quella relazione, nell'Incipit, non è mai accaduto nel passato che sia stata esaminata in Aula una relazione annuale del Copasir o una relazione annuale della Presidenza del Consiglio. La legge 124 del 2007, di 15 anni fa, prevede appunto queste due relazioni, che non sono state mai esaminate né in un'Aula né in una Commissione del Parlamento. Mai. Per questo, a nome del Comitato, ringrazio la Presidenza e i gruppi parlamentari di avere condiviso la innessità, e spero che ci accada ogni anno, con una specifica sessione parlamentare, che è quello che chiedevamo nella nostra premessa nella relazione annuale. Una sessione parlamentare come quella che si svolge ogni anno sulla giustizia, con le conseguenze ovviamente poi legislative. In questi anni si è svolta soltanto un dibattito tematico del Copasir, Presidente Rutelli, nel 2009, in quest'Aula, su un caso, quello delle intercettazioni, su cui, peraltro, tanti anni dopo, dal 2009, siamo stati costretti a fare noi stessi una relazione al Parlamento lo scorso anno, il 21 ottobre. Guarda caso. Nella nostra relazione al Parlamento del 21 ottobre sul sistema di intercettazioni, abbiamo denunciato come perduro una situazione di assoluta discrezionalità su modalità e criteri con cui vengono affidati i mandati ad eseguire le intercettazioni giudiziarie, anche in merito alla conservazione o alla distruzione delle stesse. Ricordo a tutti che siamo sotto infrazione europea, perché le procure non intendono attuare quando previsto in una precisa direttiva europea e quando stabilito dalla legge italiana. Aspettiamo che il Ministro della Giustizia mantenga quel che si era impegnato a fare nel corso dell'audizione. In altri casi, invece, alle nostre relazioni sono seguiti azioni concrete. Mi riferisco per esempio alla sicurezza cibernetica, che è stato oggetto della nostra prima relazione al Parlamento tre anni fa, a inizio di legislatura. Essa ha portato all'estensione della Golden Power al settore delle telecomunicazioni, la realizzazione del perimetro nazionale sulla sicurezza cibernetica, la nascita, seppure solo nel giugno scorso, con oltre dieci anni di ritardo, dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Mentre non è stato dato seguito alla nostra richiesta di allora, tre anni fa, di individuare una fattispecie di reato che consentisse di perseguire gli autori degli attacchi in modo adeguato e di predisporre una difesa attiva, cosa di cui ovviamente si parlerà nei prossimi giorni. In questa relazione evidenziamo a tal proposito anche la necessità di realizzare al più presto il cloud nazionale della pubblica amministrazione, la rete unica controllo pubblico, una politica strategica per la connessione marittima, l'autonomia tecnologica e produttiva europea nella economia digitale. Purtroppo, cari colleghi, non vi è stata sufficiente attenzione nemmeno quando notavamo che la Russia è lo Stato più attrezzato nella guerra cibernetica. Ed oggi dobbiamo pensare a come eliminare le criticità che possono emergere dal fatto che software antivirus russi siano utilizzati come cavalli di Troia. In queste ore il Governo, anche ovviamente sul nostro attore di litigazione, prenderà altre necessarie misure di cui siamo stati correttamente informati, come sempre accade, devo dire, in un confronto pieno e leale tra gli organi istituzionali. Lo stesso vale, anzi di più, per la tecnologia cinese, di un gran lunga più pervasiva, come abbiamo ampiamente dimostrato appunto tre anni fa e ribadito in questa relazione, chiedendo purtroppo, senza successo, di inibire l'uso della tecnologia cinese nel sistema delle telecomunicazioni. Altre indicazioni del Comitato sono state recepite e ne diamo conto in questa relazione. Per esempio, con l'estensione della Golden Power al settore finanziario e bancario e ad altri importanti asset strategici del Paese, anche alla filiera sanitaria. O con la norma penale che punisce la detenzione di materiali affini terroristici, indicazione contenuta nella nostra relazione su come contrastare la radicalizzazione islamica e le nuove forme di terrorismo jihadista che abbiamo presentato dopo la caduta e a seguito della caduta di Kabul nel regime talebano. Questa indicazione è stata di recente recepita dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera e quindi abbiamo fatto un passo in avanti. Altro sicuramente molto vi è da fare. Nella nostra relazione annuale abbiamo evidenziato quali siano alcuni asset strategici del Paese di cui ci siamo occupati nella nostra attività annuale. Dalla ricerca all'università, alla tutela dei brevetti e della tecnologia, dall'economia digitale alle infrastrutture portuali, dalla filiera siderurgica a quella automobilistica, dai semiconduttori alle batterie, dall'idrogeno al riciclo dei minerali preziosi, dalla nuova competizione duale sullo spazio all'industria della difesa. Sullo spazio come fattore geopolitico, oggi si parla di guerra interspaziale, sullo spazio come fattore geopolitico e sulla difesa europea stiamo per concludere due apposite relazioni dopo mesi di indagini, che vi presenteremo nei prossimi giorni, indagini che abbiamo attivato e non a caso dopo l'asciugurata ritirata dall'Afghanistan. Sulla difesa europea, però, vi abbiamo già anticipato nella relazione annuale alcune osservazioni. Nello specifico, vi abbiamo anticipato in quella relazione, come già a noi appariva insufficiente, ben prima dell'invasione russa in Ucraina, una previsione di appena 5.000 militari come forza rapida europea, a fronte del fatto che solo l'Italia impiega 9.200 militari in missioni internazionali. E anche in questa relazione vi abbiamo anticipato come ci sono apparsi del tutto inadeguate le risorse previste nel quadro finanziario pluriannale dell'Unione europea, risorse che sono state dimezzate rispetto a quando vedeva il precedente bilancio. Ora ovviamente tutto cambierà sotto l'incalzare della guerra, come ha fatto la Germania. E se lo ha fatto la Germania, voi capite che dobbiamo farlo anche noi. Chiediamoci però se la minaccia russa non sia anche il frutto della distrazione europea, del nostro non voler vedere quello che accadeva. Non possiamo più permettercelo. Anche per questo un capitolo, un ampio capitolo della relazione, riguarda l'intelligenza economica. Tanto più importante quest'intelligenza economica a fronte della guerra ibrida che è in corso da anni, non da oggi, e di cui il principale terreno di contesa è proprio il nostro Mediterraneo allargato. Una guerra ibrida in cui sistemi autoritari, Cina e Russia in testa, ma non solo, aspirano alla supremazia tecnologica ed economica, anche attraverso il controllo delle risorse energetiche e alimentari del pianeta, dal gas all'acqua, di materie prime, minerali preziosi e terre rare, tutto ciò che serve all'economia digitale ed ecologica che dobbiamo assolutamente realizzare, che però sta accadendo sotto il loro controllo. Chi non ha notato, e non l'abbiamo notato, che negli ultimi mesi si sono svolti sei golpi militari, cinque riusciti in quattro paesi del Sahel, in due dei quali ovviamente hanno chiamato i mercenari della Wagner. Intelligenza economica e intelligenza cibernetica si legano l'uno all'altro. Abbiamo fatto, per sottoporre alla vostra attenzione, un confronto con alcune democrazie occidentali, con le nostre democrazie occidentali. Stati Uniti, Francia, Giappone e Svezia, che da tempo hanno sviluppato un'intelligenza economica per capire cosa si possa fare di più e meglio nei paesi democratici, a tutela della nostra tecnologia e delle nostre imprese, quindi della nostra scienza e creatività, della nostra società e quindi delle nostre libertà. Qualcosa si è fatto a normativa vigente? E ne diamo atto anche al sottosegretario Gabrielli, come abbiamo fatto nella nostra relazione, su nostra richiesta pienamente condivisa dal Governo, ma ancora più va fatto con apposite modifiche legislative, perché quello che si è fatto è a legislazione vigente. Questo è compito del Parlamento, cambiare la legge. In questo contesto abbiamo evidenziato come lo strumento della Golden Power sia utile, necessario, ma non sufficiente. Serve anche una politica industriale che punti a preservare e, se possibile, rafforzare gli asset strategici del Paese. Lo stesso strumento della Golden Power, notevolmente rafforzato in questi anni, ancora che poco usato, guardate le relazioni al Parlamento sulla Golden Power e lo diciamo, guardate le relazioni in Parlamento, perché talvolta il Parlamento è distratto, lo stesso strumento della Golden Power, notevolmente rafforzato in questi anni, proprio su impulso del Comitato, va ulteriormente adeguato alle evidenze emerse nella sua applicazione. Il caso di Alpi Aviation, una piccola impresa ad alto contenuto tecnologico, che abbiamo esaminato e di cui vi diamo conto nella nostra relazione e su cui il Governo è recentemente intervenuto, bloccando la vendita a una società cinese statale, ci ha determinato nel chiedere che lo strumento della Golden Power contempli anche un'azione preventiva di monitoraggio a tutela proprio delle piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico, come accade in altri Paesi, ad esempio negli Stati Uniti, e nella nostra relazione. La nostra relazione ha sempre un preciso medio di lavoro empirico. Parte da un caso specifico, come nel caso sopracitato, si dà conto delle nostre sollecitazioni al Governo ad agire nei limiti della legislazione vigente. Ciò avviene nel corso di audizioni. Guardate il numero di audizioni fatte lo scorso anno, soprattutto nella seconda parte dell'anno. O attraverso note informative specifiche alle autorità competenti. Leggete le note informative specifiche che abbiamo fatto e a chi le abbiamo fatte. Quindi, nelle relazioni al Parlamento, sollecitiamo il legislatore a intervenire. Per esempio, nel campo del controllo sull'operato del comparto, c'è un intero capitolo sul controllo del comparto, cioè dell'intelligence, compito precipuo del Comitato, abbiamo riscontrato il caso Marco Polo Cancel. La nostra attività, in proposito, ha consentito all'autorità del comparto di predisporre un primo provvedimento sulla incompatibilità dei vertici dell'intelligence dopo la cessazione del servizio. Provvedimento pubblicato in via straordinaria nella gazzetta ufficiale, affinché terzi ne fossero a conoscenza. Ora occorre migliorare l'impianto legislativo, compito del Parlamento, così come verosimilmente, mi auguro, facciano anche altri organi dello Stato per quanto di loro competenza. Nella parte conclusiva della relazione forniamo pertanto alcune indicazioni su ciò che riteniamo necessario modificare nella legge 124. Una legge ottima, ma fatta nel 2007, 15 anni fa, quando la guerra ibrida non era nemmeno immaginabile, quando la Russia sostanzialmente era ancora, in qualche misura, nello spirito di pratica di mare, ancorché ci fosse stato l'intervento, credo, in Georgia. Nel contempo, e diciamo nella relazione che è necessario fare già da subito una cosiddetta manutenzione ordinaria, ma assolutamente necessaria e vi elenchiamo anche i punti in cui occorre intervenire. Nel contempo, però, abbiamo evidenziato come la normativa abbia bisogno di una revisione più significativa, anche per quanto riguarda l'architettura e le competenze delle agenzie di intelligence. Per telemotivo abbiamo preannunciato che nella prossima e conclusiva relazione annuale, fine legislatura, al termine di ulteriori approfondimenti forneremo le nostre relative informazioni in un confronto preventivo al COPASIR con il Governo. Tra l'altro abbiamo affrontato anche la tematica emersa sia in questa legislatura che nella precedente, perché anche nella precedente era emersa la tematica della composizione del Comitato quando muta la collocazione parlamentare maggioranza-opposizione. Nella precedente legislatura si era supplito con una leggina transitoria, incrementando il numero dei parlamentari componenti del Comitato. Ce lo siamo dimenticati? Ebbene, noi non ce ne siamo dimenticati e per cui abbiamo proposto in questa relazione una soluzione normativa che consenta ai Presidenti delle Camere di intervenire quando cambia la collocazione e la ripartizione maggioranza-opposizione, per regolare l'attività del Comitato, che di fatto nei primi sei mesi dello scorso anno, se vedete il numero di aduzioni di interventi, si era praticamente ridotto a un numero esiguo. Si era quasi paralizzato rispetto a quello che abbiamo fatto nella seconda parte dell'anno. E non si può paralizzare l'attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Non si può, ovviamente, tanto meno oggi. Cari colleghi, qualcuno ha scritto, leggendo il combinato disposto della relazione annuale e della relazione sulla sicurezza energetica, che il COPASI avesse previsto quel che sarebbe accaduto. Alcuni giornalisti sono sbizzariti su questo, con l'aggressione militare in Ucraina. Qualcosa di significativo avevamo detto, nei modi in cui potevamo dirlo, ovviamente, sulla base delle audizioni secretate che avevamo ottenuto e quindi delle informazioni che noi stessi ricevevamo. Perché la nostra fonte di informazione sono le audizioni, l'intelligenza, il governo, le autorità che convochiamo, non altro a scanso di equivoci. Ora occorre reagire, consapevoli che siamo a un punto di svolta nella storia, un passaggio epocale. Il mondo che sognavamo non c'è più e forse non c'era nemmeno ieri. Vi è un primo e un dopo. E non serve a nulla recriminare o rinfacciare o, peggio, ancora mettere in difficoltà l'avversario o l'alleato per quelle che aveva dichiarato in altri tempi, in un'altra epoca storica, quando aveva altre informazioni. Questo gioco è un gioco al massacro che non serve al Paese. È il momento della unità e della responsabilità. Come si è realizzata, unità e responsabilità, nella risoluzione che definisce quale debba essere la posizione dell'Italia sulla guerra in Ucraina. Una guerra che ci riguarda. Perché è una parte della guerra ibrida, con mezzi anche diversi, ma altrettanto devastanti, i sistemi autoritari hanno sviluppato nei confronti delle democrazie occidentali per soggiacerci e, se volete, anche in qualche misura toglierci le nostre libertà. È un problema che riguarda anche l'Occidente. Vi pongo un esempio che deve essere chiaro a tutti, perché la tecnologia si sviluppa e oggi la tecnologia consente agli algoritmi, attraverso il riconoscimento facciale, di capire solo attraverso il riconoscimento facciale quali siano le opinioni politiche del cittadino che viene sottoposto al riconoscimento facciale, senza altre informazioni. Capite bene cosa ciò significa rispetto a Paesi in cui è prevalente il controllo sociale del dissenso e in Paesi come noi, in cui è fondamentale la privacy e le libertà degli individui, delle comunità, delle nazioni. Per questo mi auguro che la stessa unità e la medesima responsabilità si realizzi ogni qualvolta affrontiamo le tematiche della sicurezza della Repubblica, che non è soltanto il controllo sull'intelligence. Lo dico a scanse di equivoce. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica...